benvenuti questo è il notiziario di senigallia notizie giovedì 2 di dicembre eccoci alle notizie di questa giornata di nuovo all'asta venerdì 3 dicembre alle ore 10 l'ex discoteca shalimar di scapezzano di senigallia lo storico luogo del divertimento di via berardinelli va all'asta al prezzo di partenza di un milione 414 mila euro le ultime aste erano andate deserte riflessioni in tema di rigenerazione urbana riforma della legge regionale urbanistica quale futuro per il nostro territorio questo il tema dell'incontro che si è svolto questo pomeriggio alla rotonda amare per il nostro territorio oggi ha bisogno di essere efficientato migliorato rivisitato però se ne ha bisogno ha bisogno anche di avere delle risposte in tempo cedere non tutte le opportunità possono attendere anni non tutte le imprese possono attendere anni non tutte le esigenze di ristrutturazione di rivisitazione possono attendere anni c'è bisogno forse di dare risposte anche nei giorni di poche settimane di pochi mesi quando vengono richieste questo è il nostro intento ed è l'inizio di percorso qui che oggi vogliamo portare avanti venerdì 3 dicembre alle 16 e 30 san rocco al via il corso di fotografia organizzato dalla luas libera università per adulti di senigallia la prima lezione sarà tenuta dai fotografi massimo marchini e alberto polonara la scuola che vorrei premiata la terza a della scuola secondaria di primo grado marchetti il concorso è stato ideato dal liceo economico sociale per ticare di senigallia che ha premiato la classe vincitrice e venerdì 3 dicembre in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità la fondazione arca partecipa al seminario internazionale il diritto alla qualità di vita riflessioni e prospettive per comunità inclusive organizzato dal dipartimento di scienze della formazione dei beni culturali e del turismo dell'università di macerata la giornata si svolgerà online dalle 14 30 alle 18 30 su piattaforma zoom le notizie della regione marche inaugurazione del reparto di psichiatria di transizione dedicato agli adolescenti come si articolerà nello specifico questo servizio si tratta di cinque posti letto è il primo reparto del genere nella regione che da molti anni era stato ipotizzato ma mai realizzato ringraziamo l'azienda ospedaliera di torrette e servizi della area vasta 2 per aver messo insieme questa struttura perché è un progetto articolato è un progetto che riguarda l'emergenza cioè la richiesta di famiglie situazioni di 118 per persone tra i 14 e i 20 anni cioè oggi è l'adolescenza lunga non è più 14 16 7 anni oggi l'adolescenza lunga i ragazzi rimangono in casa e quando ci sono situazioni critiche c'è necessità di intervenire ma fino ad oggi non c'era un luogo di decantazione questo diventerà appunto una sorta di servizio dell'emergenza per poi un progetto terapeutico che non è certamente il ricovero ma è l'invio in una comunità terapeutica o in un servizio territoriale che possa seguire la famiglia l'adolescente nella sua criticità tutto il nuovo e usato fotografico garantito e solo da zona immagine e su zona immagine.it canon nikon fujifilm panasonic lumix sony e tanto altro tutte le marche di fotocamere videocamere e tutti gli accessori vieni a scoprire il vasto assortimento di materiale fotografico leonardo e simone ti aspettano per mostrarti le occasioni del momento zona immagine.it ti aspetta anche nel punto vendita di senigallia in via piave 25 sai quando c'è il sole è fantastico ma è quando viene giù che diamo il meglio abbiamo il coraggio di guardare lontano negli affetti come nel lavoro abbiamo le nostre abitudini ci piacciono le stesse cose e con la forza dei nostri soci viviamo lo stesso territorio da sempre per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita ti aspettiamo in bcc ci riconosceremo al volo si chiude sabato 4 dicembre le 21 la prima parte della stagione teatrale del teatro misa di arcevia con lo spettacolo ubure ubuki da ubura di alfred giari drammaturgia e regia di simone martini di fantasia e di mani successo a tre castelli per l'artigianato artistico l'evento organizzato dall'associazione culturale biblioteca oscar franceschini ha radunato cinque artiste artigiane locali che per la prima volta hanno potuto presentare le proprie creazioni ad un vasto pubblico adesso lo sport mercato il senigallia calcio aggiunge un tassello al suo organico la notizia circolava da diversi giorni ma adesso con l'inizio del mercato di dicembre è arrivata l'ufficialità daniele cucchi e il nuovo giocatore del senigallia calcio la nostra rubrica una foto al giorno vediamo lo scato di oggi che è di marica berardinelli dal titolo ombrelli in rosso e grigio votate le foto sulla nostra pagina facebook le foto con più like riceveranno un premio 25 stampe 13 per 18 un ingrandimento 20 per 30 offerti da zona immagini di senigallia eccoci le previsioni del tempo quelle di venerdì 3 sulle marche cielo molto nuvoloso coperto con deboli piogge il rapido assorbimento dal tardo pomeriggio la temperatura massima sarà di 10 gradi la minima di 7 i venti saranno tesi e il mare molto mosso i nostri due nuove siti sono senigalliatv.it sn24.it che raccolgono tutte le nostre produzioni video e poi non dimenticate di cliccare su questa iconcina per iscrivervi al nostro canale youtube senigallianotizia è tutto a domani l'app senigallianotizia è ora disponibile per iphone e dispositivi android i nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti con la nuova app di senigallianotizie gli avvenimenti fatti e il telegiornale di senigallia sono a portata di mano